Take it easy, take it slow We can do it just like before So take it easy, take it easy Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video di Fortnite News in particolare ragazzi oggi parleremo di questa bellissima skin Che deve ancora uscire, vedremo come si riscatterà Vedremo anche le ricompense tra l'altro che ci saranno in questo bundle oltre questa skin Ci sarà infatti un backpack e in più 1000 V-Bucks Vedremo tutto, come sbloccarlo, come si potrà avere e tutto quanto Però ragazzi prima di iniziare vi invito assolutamente a iscrivervi al canale Mi raccomando è davvero importantissimo Se non l'avete ancora fatto mi raccomando grazie mille a chiunque lo faccia E lasciate un bel like e commentate cosa ne pensate di questo bundle In più vi invito a seguirmi se volete anche su Instagram Ciocchinato trattino basso tv Direi che lo spam può passare qui ragazzi passiamo Alle cose veramente interessanti ragazzi Leader squadra a metallo Come si riscatterà ragazzi? Beh ragazzi la cosa è molto ma molto semplice Vabbè come possiamo vedere innanzitutto la vediamo adesso qui Chill, bella nel nostro armadietto Come potete vedere, aspettate Ok, metallo da paura se mi fa leggere Metallo da paura fa parte del setto cuori reali Prima apparizione capitolo 2 stagione 2 Questa è la skin all'interno del bundle di tanto Di tanto, cosa sto dicendo? Con tanto di backpack scusate E in più avremo 1000 V-Bucks all'interno di questo bundle Lasciate stare queste due cose Non c'entrano nulla Ragazzi come si potrà avere? Allora, intanto vi metto qua l'immagine che è ufficiale Infatti conferma che questo sarà un bundle Con la skin, il backpack e i 1000 V-Bucks Come potete vedere Quindi è confermato che uscirà Non si sa quando di preciso Ma nelle prossime settimane Probabilmente vicino al compleanno di Fortnite Rilasceranno questo bel pack Perché vicino al compleanno di Fortnite? Perché ragazzi questo bundle si potrà ricevere Solamente se avete salva il mondo Se avete salva il mondo potrete ricevere queste ricompense Ovviamente acquistando il pacchetto Chiaramente E vi lascio anche qui a destra Ecco qua l'immagine invece Delle sfide che ci saranno Come potete vedere sono 1000 V-Bucks gratis E basterà semplicemente completare delle semplicissime sfide E mano a mano che completeremo queste sfide Ci daranno 1000 V-Bucks E poi una volta insieme anche dei lama Vedo qui E dei biglietti Per chi interessasse salva il mondo E in più Una volta che avrete fatto tutte le sfide Verrà data sia la skin Sia un'arma Che non so Scusate Salva il mondo non ci gioco molto E sia la skin col backpack Per l'appunto La vostra domanda ora a questo punto è Ma se su salva il mondo Sarà solo per chi ha salva il mondo? No ragazzi Sarà disponibile anche nel vostro armadietto Di Fortnite normale Di Battle Royale Sarà quindi disponibile sia Come eroe su salva il mondo E sia come skin su Battle Royale Quindi andate tranquilli E idem per i 1000 V-Bucks Ovviamente potete usarli sia all'interno Dello shop giornaliero Sia per i lama Per chi volesse spendere magari su salva il mondo Questo ragazzi è il nuovo bundle Io direi che possiamo fermarci qui Vi ho fatto vedere come riscattarlo L'ultima cosa che posso dirvi E ricapitolando Questa skin ragazzi Uscirà quindi sullo shop di salva il mondo Eh costerà 10 euro Molto probabilmente Anzi senza molto probabilmente Sicuramente Eh costerà 10 euro Avremo sia la skin su Battle Royale Che su salva il mondo I 1000 V-Bucks idem E niente ragazzi Questo è tutto quello che riguarda questa skin Quindi non la possiamo avere Nel Battle Royale normale Tra virgolette Perché questo bundle ripeto Esce solo per chi ha salva il mondo Quindi se vorrete questa skin Più i 1000 V-Bucks Dovrete acquistare Salva il mondo E quale giorno non migliore Per l'appunto per il suo compleanno Infatti Dicevo prima Quando usciva Quando uscirà questo pack Secondo me Vicino al compleanno in Fortnite In modo che Eh Sia pure scontato E tutto quanto Quindi ragazzi Per questo video è tutto Noi ci possiamo salutare Ci vediamo prossimamente Con nuovissimi video Bella ragazzi Ciao 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 Ciao